Ciao a tutti, ben ritrovati dalla cucina del Grillo Talfa, andiamo di fretta perché ci sono tante cose da dire, questo fine settimana intanto rugby e giocato e volevo parlarvi anche di una cosa che verrà da qui a qualche settimana, andiamo con ordine però, semifinale di eccellenza, mi aiuta un po' se no qui mi sbaglio scusate ma l'età è quella che è ormai, semifinale di eccellenza, gara scusate di andata, sabato alle 16 fiamme oro Petrarca, domenica 17 rovigo Calvisano, tra una settimana le gare di ritorno, 3 su 4 delle protagoniste sono le protagoniste assolute del campionato della regular season e sono le squadre che partivano anche con i favori del pronostico, ovvero Petrarca che è stata la squadra assolutamente più regolare, quella che ha espresso anche il miglior gioco e che parte un po' con i favori appunto del pronostico per quanto riguarda la vittoria finale, rovigo Calvisano che si scontreranno quest'anno in semifinale dopo le tanti finali degli ultimi anni, quindi avremo comunque una finale inedita quest'anno, rovigo Calvisano che invece sono stati meno regolari hanno avuto dei passaggi a vuoto, rovigo ha anche avuto dei problemi societari, insomma Calvisano è la squadra che fosse un po' più stupito in questo senso, nel senso negativo ma nel senso che ha perso quattro volte, non era mai successo negli ultimi cinque anni ma è una signora squadra, è l'attacco più forte, ha la seconda difesa se non sbaglia del campionato, un signor allenatore, insomma e probabilmente in questa semifinale tra rovigo è appunto Calvisano è la squadra che parte un po' con qualche vantaggio in più sulla carta ovviamente. E poi ci sono le Fiamme Oro che sono un po' la sorpresa se vogliamo, sorpresa non forse assoluta perché ad inizio stagione ci si attendeva insomma che le Fiamme Oro potessero arrivare a questo punto. È vero che per come si erano messe le cose soprattutto nella prima metà abbondante della regular season era San Donat, la squadra che meglio ha fatto, più regolare, più bella anche da vedere. Poi si è un po' perso, la squadra Veneta e le Fiamme Oro sono state brave a rimanere prima attaccate e poi a giocare in ultimi due mesi molto bene, va detto, e quindi a conquistare con merito questa semifinale. Vedremo cosa succederà. L'approccio mentale è ovviamente determinante, forse più di quello tecnico addirittura perché se qui se sbagli i gara non è il tempo di recuperare, non è come durante la stagione. Però vedremo insomma cosa ci dirà il campo. Semifinale, scusate, sabato che ci regala anche un derby di Celtico che chiude la stagione e la regular season del Pro 14. Benetton, Zebra, il Monigo alle 18, diretta tv su Eurosport 2. Ah, scusate, l'eccellenza si vede come sempre su The Rugby Channel in diretta streaming. Dicevo Benetton-Zebra, gara che non ha nulla da chiedere, nulla da dire per quanto riguarda la classifica per entrambe le formazioni che salutano il pubblico italiano dopo un'annata che ha regalato loro i record di vittorie in entrambi i casi, luci, ombre, un po' più di luci per quanto riguarda la costruzione della squadra, soprattutto a Treviso, ma bene anche le zebre che sono partite da una condizione molto difficile e hanno fatto forse più di quello che ci si attendeva, anzi sicuramente comunque i bilanci li vedremo la settimana prossima. Pro 14 che però in questi ultimi 80 minuti ha ancora qualcosa da dire, anche qui mi faccio aiutare un attimo da due appunti che mi sono scritto perché sennò magari mi perdo. Leinster, Munster, Glasgow sono sicuri dei playoff, gli Scarletts anche in maniera abbondante, sono quasi sicuri, non hanno ancora la certezza matematica, così come i Citas, i Citas credo che basti solo un punto nel derby con i Kings assolutamente fattibile per mettersi a riparo di eventuali scherzi dei Cardiff Blues, però insomma vediamo insomma negli ultimi 80 minuti che cosa avranno da dire. Queste sono le squadre che hanno un po' dominato comunque la stagione, che si avvicinano insomma a vivere da protagonista anche i playoff. Vi parlavo all'inizio di qualcosa che verrà tra qualche settimana, è un test match internazionale particolare perché si giocherà il 2 giugno, Galles, Sudafrica, cosa di particolare che si gioca negli Stati Uniti, l'RFK Stadium della bella Washington. Tanto si gioca, questa è la certezza perché le ultime ore c'erano indiscrizioni che volevano la partita in forte dubbio perché si sono venduti pochi biglietti, 12.000 secondo le fonti ufficiali, sono 46.000 se non sbaglio dei posti a sedere nella struttura scelta. 27.000 è il livello minimo per andare in equilibrio da un punto di vista finanziario, per due federazioni che comunque vista la prevendita scarsa hanno già abbassato il loro incasso, sono passati da 720.000 a 540.000 sterline, insomma perché spesso si parla di l'America, degli Stati Uniti come il nuovo grande mercato, però è assolutamente vero da un punto di vista dei numeri, della preparazione, della cultura sportiva, dell'attenzione anche agli eventi sportivi, anche degli sport più disparati sicuramente, ma è un mercato ancora tutto da costruire, il nuovo campionato appena partito, dopo il flop del vecchio torneo che è durato solo una stagione. Sì, è vero che gli All Blacks hanno fatto il pienone a Chicago contro l'Irlanda, ma erano gli All Blacks 1 e l'Irlanda a Chicago ha una comunità di emigrati numerosissima, quindi bisogna darci un po' con i piedi di piombo, Galles e Sudafrica non hanno quei bacini di emigrazione su cui contare e su cui costruire eventualmente una loro presenza in una città poi come Washington, che non è una metropoli certo. Basti pensare che la Premiership a settembre ha giocato una partita di Saracens contro Newcastle a Philadelphia, c'erano 6.000 persone in una struttura che ne poteva contenere 18.000, quindi è tutto un mercato ancora da costruire. Questa corsa verso questo tipo di eventi va fatta in maniera molto oculata. Tra l'altro, una curiosità, la partita tra Galles e Sudafrica, Galles che poi è a fronte all'Argentina per i test di giugno e Sudafrica all'Inghilterra, è organizzata dalla Rugby International Marketing, che non è esattamente la federazione statunitense, è il braccio commerciale della federazione americana, ma USA Rugby ha la maggioranza di questa società, a cui partecipano anche la federazione inglese e gli Harlekins, che emettono un po' più di un milione di sterline l'anno. Una società che ha chiuso il 2017 con una perdita di 3 milioni di sterline, quindi è tanto è vero che si parla di una possibile fuoriuscita della federazione inglese degli Harlekins da questa società. Insomma, dovremmo anche un po' abituarci a questo tipo di mondo che è un po' nuovo per il nostro rugby. Io vi auguro un buon weekend, un buon ponte, io me lo faccio, ci vediamo il 2 giugno, il 2 maggio, quando poi ci saranno anche le convocazioni della nazionale nel pomeriggio per i test in Giappone. E speriamo, perché sono test importanti. Ciao a tutti!